Perchè hanno mandato proprio te? E' una lunga storia. Posso sapere? Ecco, dopo che io alla fine della guerra fui congedato, volevo rivedere un amico. Hai ritrovato tuo amico? Beh, io sono andato al suo paese e ho combattuto una guerra che non volevo. Come guerra? Una specie di guerra assurda, scatenata contro di me e contro voi. Tutti i reti c'è da fronte e abbiamo perso tutti. E così non è cambiato niente. E tu com'è che ti trovai? Mio padre collaborava con voi americani. Lui ho ucciso e io ho preso suo posto. Troppo i morti qui. Anche da noi niente è cambiato. Ma io voglio vivere libera, lontano dalla guerra. Mi piacerebbe venire in America, avere vita tranquilla. Tu che cosa vuoi? Adesso, vincere e sopravvivere. Non facile sopravvivere. Siamo sempre con guerra. Per sopravvivere con guerra, bisogna saper combattere. Per questo ti hanno scelto. Perché a te piace combattere? No. Perché io non esisto. Come non esiste? Come fai a dire che non esiste? È come se qualcuno ti invita a una festa. Tu non ci vai e nessuno se ne accorge. Cos'è questo? Mio portafortuna. Tu ce l'hai il portafortuna? Ti e il portafortuna? Grazie a tutti.